Ben trovati amici di Lombardia Notizia Online, siamo in diretta oggi da Palazzo Lombardia e in particolare dal bel vedere del 38esimo piano, da cui come potete voi stessi constatare alle mie spalle si possono scorgere le bellezze di questa nostra straordinaria regione sempre più vocata al turismo e con un'impronta decisamente internazionale, proprio perché Regione Lombardia è stata chiamata tra i finalisti del premio internazionale World Media Awards 2022 e nella fattispecie con una delle nostre eccellenze lombarde che è il Granapadano. Gusto, specialità e no gastronomia sono fattori di attrattività, come ci spiega l'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda Lara Magoni intervistata dal collega Massimo Calabro, ascoltiamola. Diciamo che per Regione Lombardia è una grande soddisfazione essere i finalisti di una campagna di comunicazione internazionale, sono altresì orgogliosa perché ha funzionato, ha funzionato la comunicazione in riferimento ai nostri capoluoghi di provincia all'interno di un percorso dove abbiamo evidenziato l'egolosità del territorio, diciamo il must del territorio e quindi ancora una volta Regione Lombardia è all'avanguardia, è pioniera nel modo di comunicare quindi speriamo che poi a settembre tra i quattro finalisti Regione Lombardia possa fare la sua bella figura. Un percorso quindi di comunicazione sulla BBC, un emittente naturalmente internazionale che conosciamo, che ha avuto un risvolto incredibile in modo esponenziale i numeri che hanno seguito questi nostri spot di promozione appunto del territorio attraverso l'enogastronomia che per noi risulta essere tra le eccellenze più importanti dall'interno diciamo come regione agricola in Europa. Un motivo in più per invitare i tanti turisti qui in Lombardia? I turisti sanno benissimo che in Lombardia stanno benissimo, ci sono questi percorsi che ci rendono veramente un'eccellenza appunto a livello internazionale e la conferma viene data che il turista che viene in Lombardia ritorna per l'80% con il richiamo di questi percorsi legati al cibo e alla tradizione. Milano celebra in tutto il mondo per il suo risotto giallo allo zafferano, un po' meno conosciuta nel mondo per il suo risotto alla monzese, il capoluogo di Monsebrianza per il riso con la salsiccia, ma come non citare ad esempio i tortelli di zucca mantovani o ancora i missoltini che si possono gustare sul lago di Como. Sono soltanto alcune delle specialità gastronomiche che la Lombardia può offrire ai suoi turisti. Dunque anche attraverso questo premio l'invito è a tutti coloro che vogliono trascorrere giorni di serenità, spensieratezza ma anche godendo del buon cibo e della buona tavola a venire in Lombardia a trascorrere un periodo di vacanza nella nostra regione. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri profili social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!